Il Comune di Rapallo ha tracciato il nuovo crono programma per l'intervento di messa in sicurezza del torrente San Francesco, il punto in consiglio a gennaio il bando per l'appalto integrato. Aperture al sostegno dell'IML di Casarza Ligure da parte della regione della Filse, incontro positivo a Genova tra l'azienda e i sindacati e l'assessore allo sviluppo economico benveduti. Un patto educativo globale per affrontare le sfide di un mondo in continua trasformazione, in particolare per la cura del creato, è la sfida lanciata da Papa Francesco che propone un grande evento per il 14 maggio 2020. Le parrocchie di Santa Margherita Ligure radunate in riva al mare per iniziare l'anno pastorale con la celebrazione della messa nella suggestiva Piazza del Sole, distribuito un pieghevole con le principali iniziative. La vita e gli insegnamenti di San Francesco portati in scena dalla compagnia Piediscalzi di Leivi al Maria Luigia di Chiavari, il teatro come esperienza di fraternità e condivisione del messaggio evangelico. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Tiguglio oggi, dunque sarà un appalto integrato, quello che il Comune di Rapallo bandirà per il rifacimento della soletta del torrente San Francesco. Entro gennaio del prossimo anno sarà pubblicato il bando di gara, intanto si sta definendo la risoluzione del contratto con la ditta esecutrice del primo stralcio del primo lotto, il punto è stato fatto in Consiglio Comunale. Sarà bandita entro gennaio 2020 la nuova gara d'appalto per completare la messa in sicurezza del torrente San Francesco a Rapallo. Il punto è stato fatto nel corso del Consiglio Comunale da parte dell'assessore ai lavori pubblici. Sarà un appalto integrato che andrà a completare il primo lotto del primo stralcio e il secondo lotto sempre nel primo stralcio e andare avanti con il secondo stralcio. Ci sono diversi passaggi burocratici che dovranno essere compiuti per arrivare alla ripresa dei lavori che dovrebbe avvenire entro la prossima estate per concludersi necessariamente entro la fine del 2022. Nel secondo stralcio come lavori supplettivi inseriremo il completamento del primo stralcio, quindi la ditta che vincerà, vincerà tutto un appalto unico. Nel frattempo il Comune sta affrontando in questi giorni le questioni legali nei confronti del Consorzio e della ditta esecutrice dei lavori del primo stralcio della copertura sul torrente San Francesco, la Phoenix, Consorzio Stabile e la Vitale Costruzioni. Non sconteremo nulla. Penali e non solo penali per ritardo. Ci sono decine di penali da applicare per mancata osservazione di alcune norme, per mancato controllo del cantiere, mancato controllo in orario notturno. Ci sono una serie di penali che prevede il capitolato speciale d'appalto che verranno messi sulla bilancia. Il procedimento per la risoluzione contrattuale non è ancora arrivato a compimento, ma le mancanze riscontrate in questi mesi in cantiere sono state notevoli e solo con il sequestro dell'aria il Comune ha potuto collaudare la nuova soletta. Comunque sia la conclusione o una risoluzione bonaria o l'apertura di un contenzioso, il Comune ha assicurato che il cantiere non si fermerà. Il cantiere ormai è sequestrato, è stato ripreso in mano da parte del Comune, in verità la sola parte asfaltata, ma poi procederemo anche con il resto. Ad oggi la strada dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per dire se ci sia la possibilità di un accordo bonario o diversamente no. Ma comunque quello farà il suo corso, il tempo che ci vorranno e quant'altro. È ripartito il tavolo istituzionale per la IML di Casarza Ligure. In regione a Genova si sono incontrati i rappresentanti dell'azienda, quelli della Filse, la finanziaria regionale, l'assessore allo sviluppo economico benveduti e i sindacati. Sul piatto la crisi di liquidità dell'azienda di Casarza Ligure che ad oggi non riesce a pagare fornitori e dipendenti. All'incontro secondo noi è stato positivo e costruttivo. È chiaro che bisogna continuare su questa strada, cercare di trovare le liquidità necessarie perché in tempi rapidi l'azienda possa ripartire liquidando i debiti che ci sono nei confronti dei lavoratori, qualcosa nei confronti dei fornitori e poter fare degli investimenti in tempi rapidi perché l'azienda è sana e quindi ci sono le condizioni per continuare e successivamente poter fare anche delle assunzioni. C'è sostegno da parte della regione, questo potrebbe essere un biglietto da visita importante anche per ottenere il credito delle banche che ad oggi non arriva? Rispetto all'inizio dove noi abbiamo avuto un incontro con l'assessore Benveduti in cui non si presentò, le condizioni sono cambiate bisogna dire anche grazie alla regione perché ieri è stata costruttiva, si cerca di fare un ragionamento con il sistema creditizio, vediamo se in tempi rapidi si risolve la situazione. È chiaro che il tempo è fondamentale anche perché i lavoratori, bisogna fargli un plauso, sono mesi che stanno resistendo cercando di stringere i denti non arrivando alla fine del mese perché soldi non ce ne sono, quindi la situazione è molto tesa e difficile. Possiamo uscirne fuori tutti insieme, dobbiamo anche ringraziare il vescavo che ci ha dato una mano anche in questo caso, e tutti insieme dobbiamo farcele, ce la faremo probabilmente. Che tempi vi siete dati adesso? Qual è la prossima verifica al punto? Beh, certamente tempi piuttosto rapidi, già in questi giorni dovrebbe partire un tavolo tecnico tra le parti, noi chiaramente manteniamo alta l'attenzione, siamo disponibili in ogni momento a rivederci tra le parti nelle prossime settimane per vedere se ci sono delle soluzioni in continuità che possano appunto portare liquidità all'azienda. Il Papa ha lanciato un evento mondiale per la giornata del 14 maggio 2020 che avrà per tema ricostruire il patto educativo globale e richiama anche il documento che ha sottoscritto con il grande imam di Al-Azari il 4 febbraio scorso ad Abu Dhabi. Per il Santo Padre occorre una solidarietà universale e un nuovo umanesimo per affrontare le sfide di un mondo in continua trasformazione. Il Papa per questo ha preparato un videomessaggio, ne vediamo insieme un passaggio. Per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sulla educazione che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale a un nuovo umanessimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contraposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature, capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio. Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo modificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande iman di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Anche quest'anno le parrocchie di Santa Margherita Ligure hanno voluto iniziare l'anno pastorale con la Santa Messa celebrata in Piazza del Sole, la celebre piazzetta proprio affacciata sul mare che si trova all'inizio della città provenendo da San Michele di Pagana. È stata l'occasione per distribuire un pieghevole con le principali iniziative di questo anno pastorale. Un inizio di anno pastorale in Riva al Mare, una serata bellissima di fine estate per iniziare appunto le attività delle parrocchie. Perché avete deciso di ripetere questa scelta? Perché è stata un'intuizione dell'anno scorso, nata nei tavoli di lavoro, che come parrocchia della città abbiamo vissuto in sintonia con la diocesi. Essendo venuta bene, proprio con sorpresa anche l'anno scorso, ci è sembrato bello riviverla e anche questa sera è una cosa molto bella. Un modo per fare comunità con l'inizio del catechismo, delle varie attività. Non è che con l'inizio dell'anno pastorale la vita delle parrocchie si stravolga, ma qual è il tema che avete scelto per quest'anno? Sì, quest'anno abbiamo pensato di appassionarci, come l'anno scorso era verso il bene comune, perché c'erano appunto anche qui tavoli di lavoro che ci hanno messi in moto su questo tema del bene comune. Quest'anno appassionati alla vita interiore. Lo slogan scelto è A tu per tu, dove il secondo tu ha la maiuscola e vorremmo appunto dare anima, spessore e profondità alle tante cose, alle tante attività che viviamo, che continuano, ma che appunto vogliamo sempre più vivere con profondità. Lo scorso anno ha avuto un particolare gradimento da parte delle persone l'esperienza semplice della lettura del Vangelo. Sarà ripetuta anche quest'anno? Certamente, abbiamo pensato di suddividere in due anni la lettura continua del Vangelo di Luca, che ci accompagna nel viaggio che Gesù compie verso Gerusalemme, ed è per questo che l'estate prossima, come parrocchie, anche noi andremo a Gerusalemme. Quindi dunque, una vita che si declina in tantissimi appuntamenti, forse però quello che è sempre più bello è fare comunità in maniera semplice. Esatto. Questa piazza permette di ritrovarci un po' tutti, grandi e piccoli delle diverse parrocchie, e questo volantino pieghevole che diamo all'inizio dell'anno, dove sono un po' segnate così le occasioni, no, di ritrovarci, di servire, di pregare, di crescere insieme, sono come il panorama sulla vita, come di una grande famiglia, dove poi ciascuno magari ha i suoi compiti, le sue responsabilità, ma dove in fondo si condivide tutti lo stesso cammino. La comunità di Cicagna si appresta a vivere tre giorni di grande feste in occasione della solennità di Nostra Signora dei Miracoli, che avrà quest'anno una caratteristica particolare perché coincide con il rientro dell'antica immagine di Maria appena restaurata. Domani alle 16 l'offerta dei fiori e l'affidamento dei bambini alla Vergine. Alle 17.45 il Rosario e la Santa Messa, celebrata da Monsignor Mario Rolando, che proporrà una riflessione sul tema accogliere Maria nella comunità. Domenica alle 10.30 la Santa Messa sarà presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco. Nel corso della celebrazione sarà incoronata l'immagine di Maria e del bambino. Nel pomeriggio alle 15.30 la conferenza di Osvaldo Garbarino sul culto mariano e la sua iconografia. Alle 17.45 la recita del Rosario e l'affidamento della parrocchia a Maria. Lunedì 16 settembre alle 10.30 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. In serata alle 20.30 il Vespro e la processione con la riflessione di Monsignor Marco Granara. Sono molte le comunità della nostra diocesi in festa in occasione della memoria liturgica dell'esaltazione della Santa Croce. Nella zona pastorale di San Salvatore domani alle 17.45 nella chiesa di San Salvatore il Vecchio la conferenza di Osvaldo Garbarino sulla reliquia della vera croce alla luce delle recenti ricerche sull'archeologia del Santo Sepolcro. Alle 19.00 la Santa Messa nella Basilica dei Fieschi. Nella parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Borzonasca in occasione dei festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso domani alle 18.30 la Messa celebrata dal Vescovo Alberto Tanasini. Domenica la Santa Messa dell'Aurora alle 6.00 e alle 11.15 la Messa Solenne. Nel pomeriggio alle 17.00 la Messa alle 20.30 il Vespro e la processione presieduta da Don Matteo Prettico. Nella parrocchia di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante e Solennità del Santo Cristo. Domani alle 21.00 i primi Vespri. Domenica alle 11.00 la Santa Messa presieduta da Monsignor Alberto Tanasini. Ieri sera la compagnia teatrale a piedi scalzi di Leipi ha portato in scena lo spettacolo Frate Francesco nel cortile dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari. Per i presenti non solo l'occasione per assistere ad una rappresentazione teatrale molto curata ma anche di ascolto del messaggio francescano. Un messaggio attuale profondo e pieno di speranza quello portato in scena dalla compagnia a piedi scalzi di Levi che ha recitato lo spettacolo Frate Francesco nel cortile dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari. La serata è stata resa possibile anche dall'impegno e dalla disponibilità dell'associazione Amici di Simone Tanturli. Mi è piaciuto lo spirito di questa cosa qua, la storia di Francesco e come è stato presentato al pubblico e a noi e quindi proprio la voglia di questa cosa bella che possa essere visibile anche a Chiavari, visibile ai miei amici e visibile a tante persone e quindi abbiamo pensato a questo posto che è un posto gradevole, piacevole con una scuola, un campo sportivo, un'area di festa e quindi fare festa insieme a San Francesco, Santa Chiara e tutti quanti. Al di là di quello che è stato il momento dell'esibizione in sé per la compagnia è stata un'esperienza di fraternità in cui c'è mentificata l'amicizia reciproca attraverso i momenti di preparazione dello spettacolo. Non esiste un progetto se non c'è un'amicizia alle spalle e per partire, man mano che cresceva questo spettacolo che cresceva in tutti noi il messaggio di Francesco l'amicizia si è fortificata ancora di più il teatro da questo punto di vista qua è meraviglioso perché poi alla fine lavori dei mesi per un obiettivo e l'obiettivo tutti noi lo avevamo in testa forte e chiaro che non era assolutamente fare bella figura ma bensì portare lo spettacolo e il messaggio di Francesco a più persone possibili. Il ricavato della serata è stato devoluto a Teleradio Pace emittente che così come lo spettacolo Frate Francesco cerca di portare alle persone il messaggio del Vangelo. La raccolta che avete fatto fa parte di quella provvidenza che abbiamo anche visto nello spettacolo che è uno dei messaggi del Vangelo che Francesco ha incarnato e poi anche direi perché il messaggio di Teleradio Pace è quello del Vangelo, della pace che stasera avete messo in scena, mostrato, fatto vedere. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in Edicola questa mattina nella nostra rassegna stampa, poi ci ritroviamo per altre notizie e aggiornamenti. Alleanza educativa, questo è il titolo scelto da Avvenire il Papa promuove un evento mondiale il 14 maggio 2020 Francesco lancia un patto globale per formare i giovani a un nuovo umanesimo una casa comune che crei pace, giustizia, accoglienza e dialogo tra le religioni. Oggi avvenire intervista la neoministra delle pare opportunità e famiglia Bonetti che dice basta litigare e facciamo un family act stop a battaglie ideologiche e nidi gratis ridurranno le disuguaglianze faremo l'assegno unico e non sarà uno spot, use culture, ora si può. La fotonotizia arriva dal Pavese con la tragica morte di alcuni operai muoiono nella vasca per salvare il collega, due imprenditori e due lavoratori agricoli. E poi c'è la Banca Centrale Europea gli ultimi atti di Draghi come governatore decisi altri stimoli contro la recessione Trump mastica Amaro e accusa la Fed Draghi arma il bazzuga, giù i tassi e nuovi acquisti. Sempre sulla prima pagina di Avvenire Bianchi porro beata, fede oltre la malattia il rito domani a Forlì. Sul suicidio assustito qualcosa si muove prima della consulta andiamo a vedere, fine vita, il Parlamento si muove si lavora a calendializzare la discussione al centro la modifica delle pene per l'assistenza al suicidio dal PD la disponibilità a far decidere le camere e ottenere più tempo dalla consulta contrari i 5 stelle. Siamo sul secolo XIX lavoro, strage silenziosa negano in quattro nella vasca di Liquami la testimonianza della madre di due di queste vittime l'ho visto galleggiare, speravo fosse vivo Bellanova, l'emergenza non sono i migranti, serve più prevenzione l'intervista a Bellanova che è il neoministro competente poi Costa Smeralda ricostruita la notte che mette nei guai il figlio di Beppe Grillo Grillo Junior e gli amici la denuncia è per stupro e poi la fotonotizia che arriva da Trieste la Croazia contesta la stata di D'Annunzio a Trieste e poi dal nostro territorio Levante sugli autobus arriva la body cam andiamo a vedere di che si tratta aggredisce il controllore e viene denunciato in arrivo sui bus del Tiguglio la body cam rintracciato e segnalato un uomo per il pestaggio le telecamere personali saranno adottate in via sperimentale e intanto dal lunedì partono i nuovi orari delle corriere e ancora dal secolo XIX di oggi cuccioli con falsi pedigree denunciate sei persone il traffico dei cani è stato scoperto dai carabinieri delle Cinque Terre numerose le persone raggirate in tutta Italia vittime anche nel Tiguglio Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Giacomo Rezzi Grazie Emanuele un saluto a chi ci segue da casa c'è stato uno scontro tra due auto in via Previati a Lavagna pochi minuti prima di mezzogiorno quattro in tutte le persone coinvolte nell'incidente fortunatamente non grave per due di loro due donne c'è stato il trasferimento in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna sul posto i medici del 118 e i volontari delle pubbliche assistenze anche i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sempre intorno a mezzogiorno gli uomini del distaccamento di Chiavari sono intervenuti proprio nella zona di Rialto per spegnere un incendio di sterpaglie si è trattato di un fuoco sfuggito di mano ad un agricoltore della zona le fiamme non hanno interessato né le case né tantomeno le persone dalla redazione è tutto la linea può tornare allo studio grazie si è svolta questa mattina a Chiavari la festa di chiusura della spiaggia per tutti la zona di Arenile vicino al porto turistico di Chiavari attrezzata per accogliere persone con disabilità dal 15 di giugno la spiaggia è stata presidiata da operatori che si sono occupati di accompagnare e assistere gli utenti tutti i giorni dalle 9 alle 19 grande successo per l'iniziativa messa in piedi da Comune Anfas e Villaggio del Ragazzo successo certificato anche dai numeri che ogni anno sono in crescita 5.394 gli accessi totali con un incremento di circa il 20% rispetto allo scorso anno terminiamo con questa notizia questa edizione di Tigulli oggi vi ricordo che il telegiornale ritorna alle 19.15 vi ricordo anche alle 21.10 il nostro appuntamento con la rubrica di cronaca diocesana Noi Chiesa grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito